Lo sapevate che ci sono delle infedeltà che oltre a essere oggetto di addebito sono anche oggetto di disarcimento del danno? Ebbene la Cassazione da questo punto di vista è stata molto chiara, non tutte le infedeltà sono addebitabili, ma soltanto quelle che sono state la causa e non la conseguenza di una crisi già in atto, ma molte infedeltà sono oggetto di disarcimento anche quando non è stato combinato un addebito, si decide pertanto caso per caso. La Cassazione non punisce la infedeltà in quanto tale, o meglio la punisce anche, ma ciò che rileva i fini di un disarcimento del danno è la platealità della infedeltà coniugale, cioè quando il fedifago in maniera dolosa o per negligenza o per distrazione la porta a conoscenza delle altre persone, soprattutto in piccoli centri o quando la persona che ha subito l'infedeltà è una persona particolarmente nota o anche no, o quando magari incautamente ha pubblicato foto o frasi sui social network che fanno immediatamente scoprire la commissione di una infedeltà coniugale, che in questo caso c'è l'offesa all'onore, alla dignità, all'orgoglio, l'immagine del tradito viene in qualche modo sporcata, c'è l'umiliazione, si sanziona questo, per cui non c'è più come una volta la debita automatico nei confronti del fedifago, ma ci possono essere azioni esercitorie del tutto fondate quando si provano appunto i danni d'immagine, i danni di carattere economico e non economico, quindi patrimoniali e non patrimoniali, quindi si applica per violazione dell'articolo 143 del Codice Civile, si applicano l'articolo 2043, 2056, 2059 del Codice Civile, ciò significa che bisogna stare molto attenti perché le procedure di risarcimento danni sono in costante aumento, il mio consiglio è cercare di mostrare già in prima battuta i danni subiti, soprattutto quelli di carattere psicologico e quelli di immagine, ma ci possono essere anche danni di carattere biologico, per esempio per quelle persone che hanno avuto problemi di insonnia, di inappetenza o tachicardia o qualsiasi altra patologia che si può manifestare, per cui il risarcimento del danno da inferiltà coniugale è sicuramente una delle procedure più in voga del momento.